Diano Marina e Golfo Dianesi diciamo che abbiamo associazioni che lavorano in una maniera molto importante soprattutto il mio assessorato e io personalmente mi piace proporre e dare incentivi comunque a chi riesce a lavorare con i bambini, con i ragazzi che sono diciamo il fulcro e la cosa più importante per le associazioni per tenere in vita e comunque dare un futuro sicuro ai giovani. A livello strutturale? A livello strutturale abbiamo delle ottime strutture tipo il palazzetto dello sport che riusciamo a sfruttare nella sua totalità, abbiamo solamente qualche endica per quanto riguarda il campo sportivo perché è un'area molto grande per noi in centro che ci serve anche poi l'estate per le attrazioni anche come parcheggio purtroppo quindi io per quanto riguarda il campo sportivo sono un po' penalizzato infatti il Golfo Dianese che milita in promozione gioca a San Bartolomeo avendo a San Bartolomeo la possibilità di dargli un campo in erba, una struttura più adeguata noi dovremo creare un nuovo campo sportivo di calcio e poi diciamo ci affidiamo anche a associazioni e società come il bowling che comunque offrono, nonostante non sia Diano Marina ma Diano Castello offrono veramente tanto per lo sport. Ecco ma il calcio intanto Roberto in questo periodo non è che sia uno degli sport non è più forse lo sport più amato dagli italiani, forse rimane ancora quello più seguito ma in certi frangenti il calcio sta facendo troppi autogol. Eh purtroppo sì, purtroppo tutti i giorni si vede in televisione che fanno di tutto, di tutto noi infatti puntiamo molto anche sulla pallavolo che abbiamo una società che lavora molto bene nel basket che soprattutto lavorano solo con bambini diciamo che è importante perché l'hanno qualcosa come 60-70 bambini e questa nuova disciplina che qua è poco conosciuta diciamo che è poco spinta perché non ci sono squadre di rilievo diciamo che possono trascinare il settore giovanile e stanno facendo un lavoro eccellente, ho tante bambine a Golfo Dianese sono tanti solo per il basket quindi diciamo che stanno lavorando veramente bene, io sono contento diciamo che posso essere un assessore fortunato, quando hai associazioni che lavorano così sei solo che fortunato. Il mare, noi abbiamo la fortuna di avere un olimpionico come Diego Negri che comunque porta lustro a tutto il golfo e soprattutto a Diano Marine, infatti anche quando andrà a Pechino diciamo che è un nostro orgoglio. Poi abbiamo il clave del mare che comunque è la società più importante che abbiamo per quanto riguarda la vela, che lavorano in maniera stupenda, anche loro tanti bambini diciamo che è uno sport in crescita, in forte crescita come in tutti gli altri sport di mare, anche la pesca anche se diciamo che l'età media della pesca è un po' più alta, diciamo che i bambini non è che si avvicinano molto facilmente alla pesca. Il clave del mare invece da un'educazione di vela, un'educazione anche di vita è importante. Ecco in chiusura Roberto, tutti i tuoi colleghi assessori diciamo della provincia di Imperia parlano e cercano di sfruttare al massimo il binomio sport e turismo. Qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è abbastanza semplice. Diciamo che noi stiamo iniziando un percorso da un anno e mezzo a questa parte che ci permette di dare al turista che viene comunque dare già una struttura, delle strutture che possano valorizzare lo sport. A quel punto quando saremo pronti diciamo anche a livello di manifestazioni piccole a aspettare il turista allora potremo anche pensare in grande, pensare a qualche grande evento perché dobbiamo dare il grande evento però anche permettere al turista che vieni trovare un posto importante dove lo sport è il principe.